Buonasera ai telespettatori di Telemia, come ogni settimana tocchiamo un paese della Piana di Gioia e Tauro nel nostro 60 minuti news e parliamo anche di una problematica, di una tematica relativa al luogo. Questa sera abbiamo Francesco De Marco che è capogruppo di Attesta Alta a Taurianova nel Consiglio Comunale, consigliere di maggioranza, con delega ad una specifica tematica che è la metanizzazione delle frazioni di Taurianova, ossia San Martino e Amato. E proprio di questo andiamo a parlare perché dopo tante chiacchiere, dopo tanti annunci che non si sono mai realizzati, adesso pare che i lavori di metanizzazione per le due frazioni inizieranno presto, prima San Martino e successivamente Amato. Allora consigliere, un risultato che viene raggiunto da questa amministrazione? Un buon inizio? Io credo che sia assolutamente un buon inizio, questo è un risultato eccellente, un risultato epocale per questa amministrazione, perché noi in questa amministrazione riesce, dopo appena due anni e mezzo di mandato, a portare a termine un progetto che altri per 30 anni ne hanno parlato, senza tuttavia mai riuscire a portare a termine questo progetto che è molto sentito dalla popolazione e dalle comunità di San Martino e dalla comunità di Amato. Dicevo appunto che questo è un progetto epocale in quanto riesce innanzitutto a porre termine ad una problematica atavica che affligge le due comunità, perché se è stato possibile per le comunità in questo ventennio poter beneficiare del gas, come dire, bisogna dire grazie alla vetusta bombola del gas, ciò nonostante il progresso che negli anni appunto si è sviluppato. Da quanto è che si parlava, consigliere, di questa metanizzazione? Quante amministrazioni si sono susseguite anche nell'idea di tantissime immagini? E perché non si è mai realizzata? Guardi, da che io ricordi non c'è stata una sola campagna elettorale dove appunto il candidato di turno non abbia gridato allo scandalo per la non metanizzazione delle frazioni, impegnandosi sempre a portare a termine questo progetto. Promesse e impegni che però all'indomani dell'elezione appunto si dissolvevano un po' come polvere al vento. Noi abbiamo avuto il merito invece di stare sul pezzo immediatamente. Noi siamo stati eletti a novembre del 2015 e le posso garantire che già a fine gennaio 2016 noi eravamo già sul pezzo. Noi parlavamo già di metanizzazione, tant'è vero che il sindaco appunto mi diede questo mandato esplorativo, se possiamo utilizzare questo termine, per capire un po' lo stato dell'arte. E le posso dire che già a metà febbraio, quindi a distanza di due mesi e mezzo, noi avevamo già al comune un incontro fissato con il mercato di Italgas, dove già si era discusso per grandi linee quello che sarebbe stato appunto il progetto. Possiamo ricordare perché molti telespettatori non conoscono Tauria Nova, alla realtà di Tauria Nova, anche perché su Telemia ci sono tante persone che ci guardano anche dal lato reggino ionico e anche in altri posti della Calabria. Tauria Nova comprende due frazioni importanti che sono Amato e San Martino. Chi abitanti fa San Martino e Amato? Noi abbiamo circa 2.000 abitanti su San Martino e oltre 1.000 abitanti su Amato, quindi è vero che sono due frazioni, anche se noi preferiamo definire le comunità, però sono due grandi quartieri del Tauria Nova e quindi è giusto che anche questi quartieri abbiano gli stessi benefici e gli stessi servizi di cui conono da tempo anche il centro Tauria Nova. E mi faccio anche precisare una cosa che per me è molto importante. Al di là dell'importanza dell'opera sotto il profilo tecnico, io credo che quest'opera abbia anche una valenza sotto il profilo sociologico, nel senso che va, a mio modo di vedere, magari mi sbaglio, però è il mio pensiero, il mio libero pensiero, va a colmare un po' quella lacuna, quel distacco, quel gap che da sempre si è registrato fra il centro torinovese e le periferie. E questo bisogna dare grande merito a questa amministrazione, al sindaco Fabio Scionti, perché ha sempre avuto e abbiamo sempre avuto una visione a 360 gradi, a differenza delle precedenti amministrazioni dove realmente lo sguardo era più rivolto a 180 gradi anziché a cerchio completo. Andiamo sullo specifico e sul tecnico. Voi avete fatto una conferenza stampa la scorsa settimana in cui avete annunciato il via dei lavori. Quando inizieranno i lavori, chi li farà e soprattutto il costo che dovrebbe ricadere o il non costo che dovrebbe ricadere nelle casse comunali di Taurianova. Il timing, quando inizieranno i lavori e soprattutto dove inizieranno prima e dove si concluderanno? Sì, allora guardi, noi abbiamo, mi faccio fare una premessa, noi abbiamo inteso invertire l'ordine delle cose rispetto al passato. Rispetto al passato io riscontro che cosa? Che le precedenti amministrazioni ogni qualvolta vi era un progetto, fino a veniva propagandato quel progetto e poi non si sapeva quando quel progetto avrebbe visto la luce. Noi abbiamo invece voluto invertire questo nome delle cose. Noi da due anni e mezzo che lavoriamo, come già detto noi stavamo sul pezzo dopo due mesi dall'elezione. Abbiamo lavorato e lavorato tanto tenendo, tra virgolette, nascosto questo nostro lavoro. Più che nascosto non l'abbiamo voluto renderlo pubblico per non dare l'idea di una propaganda. Quindi noi abbiamo prima completato il lavoro, prima abbiamo ottenuto il risultato e dopodiché l'abbiamo esternalizzato. Tant'è vero che noi oggi possiamo benissimo dire che il 2 di maggio inizieranno i lavori. Il 2 di maggio quindi? Il 2 di maggio, ad una settimana dalla conferenza stampa. Cioè noi abbiamo prima ottenuto il risultato e dopo l'abbiamo pubblicizzato. L'abbiamo portato a conoscenza della collettività. Ad una settimana dall'inizio dei lavori. Nel cronoprogramma stilato appunto da Italgas e dalla società che andrà ad eseguire i lavori, i lavori inizieranno il 2 di maggio e dovranno aver termine il 31 di agosto. Dopodiché si sa che in corso l'opera può... Questo significa mettere la tubatura nel terreno e fare eventualmente un allaccio principale, o degli allacci principali, questo dal punto di vista tecnico? Sì, sotto il profilo tecnico, questo progetto che verrà finanziato integralmente da Italgas, quindi al comune non costerà assolutamente nulla, quindi è un progetto... Sia per San Martino che per Amato? Ma adesso... Sì, adesso vediamo. Sì, per adesso noi parliamo di San Martino, poi spiegherò perché ancora non si può proseguire verso Amato. Sì. Quindi questo è un lavoro che verrà finanziato integralmente da Italgas, con società fiduciari di Italgas e dal 2 di maggio inizieranno questi lavori. Questi lavori consisteranno in che cosa? Innanzitutto la posizione delle condotte principali, che partono dalla cabina e inizita sulla statale provinciale 1, se non mi sbaglio, è questa la strada, con un percorso, seguendo una stradina sterrata che costeggia appunto l'abitato di San Martino, entra sul San Martino e quindi poi si sviluppa fino all'estrema periferia di San Martino, cioè la periferia... Alla fine, diciamo, della frazione. Esattamente, alla fine della frazione. Qui, lungo tutto questo percorso, verranno posizionate le condotte principali e poi all'interno dell'abitato di San Martino verrà posto in essere un reticolato che andrà a servire appunto le varie abitazioni. Quindi non comporta soltanto la posizione delle condotte principali, ma anche la ramificazione dentro i quartieri. Quindi noi contiamo di coprire, dopo questa prima trancia di lavori, almeno l'80% del territorio di San Martino. Se poi, al termine dei lavori, ci renderemo conto che magari qualche via non è che non è coperta, magari è più distante rispetto al reticolato, non dimentichiamo che noi abbiamo in tasca un finanziamento di 900.000 euro ottenuto per la metanizzazione, per cui al termine di questi lavori queste somme di 900.000 euro che rimangono integri, sono nel portafoglio appunto comunale, verranno investiti per completare il lavoro su Amato e qualora ce ne fosse bisogno anche per coprire qualche alca aria sanmartinese, magari rimasta scoperta, rispetto alla prima trancia dei lavori. Quindi il costo per San Martino è tutto a carico della società che si è impegnata a fare l'impianto, le tubature che poi saranno tracciate lungo il paese della frazione. Mentre Amato, il costo è relativo a questi 900.000 euro che il Comune è riuscito ad acquisire attraverso i patti per il sud? Sì, questi sono 900.000 euro che il Comune è riuscito ad acquisire con i famosi patti per il sud di Renzi. Sì, però vorrei anche precisare appunto un passaggio, vorrei precisare un passaggio. È vero che quest'opera viene finanziata integralmente da Italgas, però è pur vero che non è un regalo dato tanto per. Se ciò è stato possibile, è stato possibile perché come dicevo inizialmente, noi siamo stati sul pezzo sin dal giorno successivo all'elezione, all'insegnamento di questa amministrazione. Noi stavamo lì sul pezzo e questo è stato secondo me il punto di volta per la realizzazione di questo progetto. Perché? Perché poi si è sviluppata tutta una serie di eventi concatenati tra di loro. Nel senso che noi abbiamo subito convocato i vertici di Italgas al Comune, che i primi di marzo già stavano al Comune. Lì abbiamo parlato, abbiamo discusso su come ci si poteva muovere. E lì, grazie anche a questo incontro proficuo che c'è stato con Italgas, c'è stata la possibilità appunto di prendere questo progetto, questa progettualità e inserirla nei famosi patti per il sud. Se noi non fossimo stati sul pezzo sin da subito, sicuramente questo treno patti per il sud sarebbe passato e noi non saremmo saliti sopra. Ma una serie di eventi concatenati tra di loro, dicevo, perché una volta che noi abbiamo ottenuto questo finanziamento abbiamo riconvocato i vertici Italgas, i quali lì hanno riscontrato che rispetto alle precedenti amministrazioni, questa amministrazione guidata appunto dal sindaco Fabio Scionti, realmente aveva un qualcosa di fattibile in mano. Quindi non erano semplicemente progetto, progettualità, ma era un qualcosa che si era concretizzato. E grazie anche a questo finanziamento che noi abbiamo ottenuto, perché siamo stati pronti a salire su quel treno targato patti per il sud, ecco che Italgas ha deciso di investire su San Martino, su Torianova, preferendolo appunto ad altri comuni, ad altri investimenti. Proprio perché per la fattibilità concreta che già vi era sull'opera. E come mai Italgas non vuole investire anche su Amato? No, questo non è proprio esatto. E i lavori saranno fatti sempre da Italgas per Amato? Ma sicuramente, aspetta, qui va precisato. Per adesso Italgas finanzia questo progetto su San Martino. Noi non possiamo dire ad oggi se Italgas finanzierà questo progetto anche su Amato. Noi questo non lo possiamo assolutamente dire. Noi possiamo dire e possiamo affermare con tanto di impegno relativamente a ciò che già abbiamo ottenuto. Quello che abbiamo ottenuto è che Italgas finanzierà il progetto su San Martino. Per quanto riguarda Amato, se non lo finanzierà Italgas, e su questo io non mi sento di garantire nulla, ma anzi è una non notizia ad oggi, vero è che noi abbiamo questo progetto, questo finanziamento di 900 mila euro e se non dovesse finanziarlo Italgas noi abbiamo i fondi necessari per portarlo a compimento noi come amministrazione. E i tempi quali sono per Amato? Cioè ad esempio il 2 agosto dovranno terminare i lavori a San Martino. E poi ad Amato si sa almeno, anche se ancora non c'è nulla di concreto, se dopo l'estate o quando inizieranno? Allora innanzitutto io vorrei tranquillizzare la comunità amaterese sul fatto che anche ad Amato questi lavori di metanizzazione saranno portati a termine. Su questo non c'è dubbio. Per due motivi. Innanzitutto io ho avuto una delega alla metanizzazione, non certo per San Martino, una delega alla metanizzazione per San Martino e Amato e intendo portarla a termine al 100%. Quindi su questo non c'è dubbio. Inoltre il finanziamento che noi abbiamo ottenuto per i patti per il sud, che sono anche dei fondi strutturali, sono finanziamenti obbligati, destinati sia alla metanizzazione di San Martino sia alla metanizzazione di Amato. Quindi non li possiamo investire peraltro. Quindi su questo che anche su Amato si procederà a metanizzare l'intero territorio, su questo io mi sento di poter garantire perché allo Stato questo è un qualcosa di pienamente fattibile. Se poi verrà fatto dai tal gas, verrà fatto dal Comune, io credo che poco importi, visto che anche qualora dovessero essere fatte a spese del Comune abbiamo già un finanziamento. Perché i lavori oggi su Amato non partono? Il perché si spiega non per una scelta amministrativa da parte dell'amministrazione e di preferibilità di una comodità sull'altra, ma semplicemente per un aspetto tecnico. Non siamo nemmeno noi come Comune a deciderlo, ma è la progettualità dell'intera opera. Questo perché? Perché le condotte principali che partono dalla cabina Eni, prima devono svilupparsi su San Martino, quindi da una periferia all'altra, e poi una volta completati i lavori, quindi questa condotta giunta in periferia, da quella periferia doveva proseguire verso Amato. E quindi se non prima si concludono i lavori su San Martino, se non vengono collaudati questi lavori per controllare perdite e quant'altro, giustamente non può questa condotta proseguire verso Amato. Quindi la condotta che andrà a servire Amato, altro non è che la condotta... La continuazione. La continuazione della condotta appunto che si ferma su San Martino. Quindi proprio per questo, in questo momento non è impossibile proseguire oltre. Per quanto riguarda i tempi su Amato, in questo momento per quanto riguarda i tempi io non le so dire, mentre qui le posso dire il 2 di maggio e 31 agosto, perché queste date ci sono state comunicate appunto da Italgas, per quanto riguarda invece i lavori su Amato, qualora Italgas dovesse fermarsi qui su San Martino, è necessario che il Comune predisponga tutte le, diciamo, tutti i completi, tutta l'istruttoria tecnica e amministrativa disegnando appunto dei progettisti per poter proseguire verso Amato. Io ritengo che entro il 2019 anche Amato possa essere metanizzato. Parlando, ecco, va bene, Italgas finirà i lavori ad agosto, questo è un po' il... e poi concretamente il cosiddetto Oro Blu, così viene chiamato. Cosiddetto? Oro Blu, visto anche il costo del metano che l'Italia acquisisce da altri paesi. Concretamente il cittadino di San Martino quando potrà accendere il gas con il metano oppure usufruire del riscaldamento attraverso il metano? Ma io credo che tutto questo possa essere posto in essere all'indomani della conclusione dei lavori. Quindi all'indomani della conclusione dei lavori, questi non sono lavori lasciati a metà. Non so se rimane al termine dei lavori qualche viuzza scoperta, questo non è esclusa, anzi poi faccio precisare un aspetto tecnico su questa parte che rimane scoperta, ma io credo che all'indomani della conclusione dei lavori ci si può allacciare tranquillamente. Si dovrà fare un presumo come si fa per Lenin, come si fa per la Tele, come si fa una richiesta e dopo di che un allaccio è anche su questo, per quanto riguarda l'allaccio, anche se in questo momento io non posso garantire assolutamente nulla, però posso dire con estrema sincerità che mi contraddistingue, ci contraddistingue, che stiamo già lavorando affinché si possa in un certo qual senso venire incontro all'utenza delle comunità di San Martino Amato con un costo agevolato per quanto riguarda gli allacci. Su questo non posso garantire, ma posso garantire che si sta lavorando in merito. Per abbassare i costi per gli utenti. Ma super giù si sa quanto sono questi costi di allaccio? Allora, allo Stato non si sa e non si può sapere, così come ci hanno riferito i tecnici di Italgas e anche in serie di conferenza stampa. Non si può sapere, non si possono quantificare a monte i costi, perché? Perché bisogna innanzitutto vedere la distanza dell'abitazione rispetto alla condotta principale o rispetto al reticolato. Lei capisce che un'abitazione che è adiacente alla condotta ha un costo pressoché erisorio. Rispetto ad altre abitazioni che magari dista 30-40 metri, già è un costo diverso. Quindi il costo non è quantificato in una tantum uguale per tutti, ma dipende da vari fattori. Questo della distanza è uno di questi fattori di cui le dicevo. Ma non è tutto, perché come ci veniva spiegato, bisogna anche vedere il numero delle abitazioni che possono essere coperte con una sola presa. Le faccio un esempio. Se bisogna coprire, non è il nostro caso, ma ci sono anche appartamenti, se bisogna coprire un condominio di 10-15 appartamenti, lei capisce che la presa è una. Una volta che arriva la condotta innanzi al condominio, poi da lì si allacciano tutti. Quindi il costo verrà ripartito. Se invece è una sola abitazione, c'è un costo che aumenta. Quindi sotto questo punto di vista non si può definire un costo a monte uguale per tutti. Questo no. Però ripeto, noi stiamo lavorando affinché questi costi di allaccio possano essere in un certo qual senso ridotti al minimo indispensabile, sia per venire incontro alla cittadinanza, sia per favorire anche gli allacci. e che non vorrà fare. Sempre relativo a questo progetto che trova concretezza adesso. La posso interrompere un attimo? No, perché si parlava appunto sotto l'aspetto tecnico e volevo anche precisare un punto. Io non credo di aver detto prima che almeno l'80% del territorio san martinezio verrà coperto da questa prima trance dei lavori. Rimarranno certamente fuori tutta quella zona, la via Garibaldi alta e la via Garibaldi bassa, cioè a partire dal campo sportivo fino a dopo il passaggio a livello, fino a circa 200 metri dopo il passaggio a livello direzione Amato. C'è tutta quella linea che corre parallela alla ferrovia. Questa zona in questa prima trance resterà scoperta del tutto. Perché resterà scoperta? Resterà scoperta perché per leggi, non lo so se nazionali, comunitari o quant'altro, in ogni caso le condotte principali del gas devono tenerse a una distanza non inferiore ai 20 metri rispetto alla linea ferrata. E poiché noi abbiamo questa linea ferrata che attraversa l'intero abitato di San Martino, abbiamo bisogno di ottenere le cosiddette autorizzazioni in deroga. Cioè non si possono posizionare, se non prima il Ministero autorizza il posizionamento delle condotte a distanza inferiore ai 20 metri. Adesso se noi stiamo lì ad aspettare queste autorizzazioni da parte del Ministero, lei capisce bene che questi lavori slitterebbero non a data certa e futura, ma slitterebbero a data da destinarsi. E per noi non è più possibile proverare questi lavori. Quindi si è deciso adesso di iniziare con il grosso dei lavori. Dopodiché se fino al 31 agosto perverranno queste autorizzazioni, bene, si completerà anche questa parte. Altrimenti non è più possibile. Si ultimeranno poi a fine... Sì, e anche questi lavori che oggi rimarranno fuori, anche questi saranno a carico di tal gas. Cioè a dire che anche le ferrovie... Era doveroso precisare appunto questo aspetto, perché magari i cittadini che si trovano appunto a risiedere sulla via Garibaldi, magari potrebbero fraintendere... Che anche l'ora arriverà a riscassa in un'ora... Cioè a vostro favore forse nei tempi giocherà il fatto che questa ferrovia è dismessa perché sono le vecchie rittorine delle ferrovie a Calabro-Lugano oppure non so se è la stessa cosa. No, questo non giocherà a nostro favore, assolutamente, perché queste autorizzazioni di intero che in ogni caso sono delle cose previste da legge, sia se le ferrovie sono... Ci sono o non ci sono. Sì, se ci sono o funzionano o funzionano. Le nostre ferrovie Calabro-Lugane, anche se oggi sono... Cioè non vediamo più la littorina che attraversa i binari, però sotto il profilo amministrativo ancora non sono dismesse. Quindi è come se esistessero. Esistessero ancora, sì. Invece tornando su questo progetto che ha preso forma, si è concretizzato, si sa quando iniziano i lavori e finiranno i lavori. Da un punto di vista politico, questo piccolo successo che questa amministrazione è riuscita a raggiungere anche in poco tempo, cosa ha suscitato nella parte politica avversa, cioè nell'opposizione? C'è stato un apprezzamento, non c'è stato un apprezzamento, ci sono state polemiche, cosa avete percepito voi da amministratori? Ma guardi, se mi fa questa domanda io potrei anche risponderle con dieci minuti di silenzio. Cioè, nel senso che non abbiamo percepito nulla. Cioè noi dalla parte avversa non abbiamo ricevuto assolutamente nessun tipo di apprezzamento, nessun tipo di commento. E questo è una nota negativa? Questo, a mio modo di vedere, è una nota negativa, perché una cosa sono i colori politici, altra cosa è la cittadinanza, che non ha colore politico la cittadinanza. Se una parte di cittadinanza ottiene un beneficio, un bene primario, si acquisisce di un bene primario, io credo che questo debba portare felicità un po' non solo la cittadinanza, anche la parte politica in carica e la parte politica avversa. Le dicevo prima, io potrei rispondere con un minuto di silenzio, in quanto non abbiamo riscontrato assolutamente nulla. Nessun tipo di commento, né positivo né negativo. E come mai questo atteggiamento da parte dell'opposizione? Ma io credo che sia innanzitutto una forma di immaturità, immaturità non solo politica, ma anche a 360 gradi, perché questo è un successo di questa amministrazione, ma che porta dei benefici, come dicevo prima, all'intera collettività. E poiché tutte le parti politiche degli ultimi 30 anni ne hanno parlato di questa metallizzazione, come io le dicevo, che io ricordo non c'è stata una sola campagna elettorale, in cui non si è parlato della metanizzazione. Quindi o non lo riteneva un problema, e quindi si parlava per demagogia, perché questo io credo che sia, altrimenti non si spiega il perché, se lo ritenevi un problema da risolvere, 15 anni fa, 10 anni fa, 8 anni fa, 20 anni fa, oggi che si risolve, non esterni nemmeno un apprezzamento o una critica verso questo progetto che si è andato a realizzare. Quindi io credo che questo sia un aspetto negativo da parte della politica, che non riesce a distinguere il colore politico dalle esigenze pubbliche. E dai progetti che... E dai progetti che, quando sono dei buoni progetti, devono trovare il plauso da parte di tutti. Vi aspettavate qualche consigliere di minoranza alla conferenza stampa per attestare anche il risultato raggiunto? Sicuramente ci avrebbe fatto molto piacere, molto piacere e ci avrebbe fatto anche piacere che si intervenisse anche sul punto, perché, ripeto, è sì un successo di questa amministrazione, ma è un successo della cittadinanza. Quindi anche il consigliere di minoranza, altro non rappresenta se stesso, rappresenta anche la cittadinanza, soprattutto la cittadinanza. Quindi ci avrebbe fatto enorme piacere. Però devo dire che non è stata riscontrata la presenza appunto di alcuna... Non è stata riscontrata alcuna presenza e né tantomeno abbiamo ricevuto attestati di congratulazioni o di critiche anche che ben vendono da parte di alcuni. Forse sono in attesa e in avguardo di qualche... Ma sicuramente adesso... Sicuramente sarà... Mi auguro proprio di no, io non voglio mettere le mani avanti, però sono sicuro che se nel corso d'opera ci sarà un qualche problema, un qualche intoppo, noi avremo appunto tante persone oggi avverse politicamente che sicuramente faranno sentire la propria voce. Visto che adesso stiamo parlando un po' di politica soprattutto riguardante le critiche o non le critiche o attestazioni di sostegno per quanto voi state facendo. Sono passati due anni, quasi più di due anni, dall'elezione del sindaco di centro-sinistra, Fabio Scionti. in questi due anni abbastanza, diciamo, turbolenti anche da un punto di vista non solo politico, ma anche su altri fattori. Cosa avete... Si può fare un primo bilancio? Quasi a due anni, a più di due anni, si fa un bilancio, si traccia una linea e si dice ok, abbiamo fatto questo, bisogna fare ancora altre cose, raggiungere altri obiettivi. Secondo, è chiaro che lei mi dirà sicuramente che il bilancio è positivo, ma cosa rimane di questi due anni? Quale linea avete tracciato da un punto di vista programmatico e avete raggiunto? Guardi, io credo che il giudizio su un'amministrazione lo si debba dare non al termine di due anni e mezzo. Ma un primo tempo? Si conclude il primo tempo, poi c'è un secondo tempo che dura altri due anni e mezzo e noi abbiamo visto che le partite si vincono o si perdono anche al novantesimo. Anche gli scudetti si perdono al novantesimo. Io non me ne intendo di calcio, però... Qualcosa sta succedendo. Qualcosa sta succedendo. Lei mi fa questa domanda. Cioè, se una consigliatura dura cinque anni è perché il legislatore ha ritenuto che in due anni e mezzo non si possono realizzare gli obiettivi che un'amministrazione si prefigge. In questi due anni e mezzo, che cosa è successo? In questi due anni e mezzo lei capisce che un'amministrazione appena si insedia non sono due anni e mezzo perché il primo periodo è un periodo veramente critico. È un periodo in cui bisogna capire come funziona la macchina amministrativa. La macchina pubblica. E quindi c'è un primo periodo di comprensione, di studio. Poi c'è un altro periodo che è diretto alla progettazione. come intendiamo portare a termine e realizzare quello che è il programma elettorale. Quindi si programma e a mia moda di vedere poi c'è un secondo tempo in cui se si è giocato bene il primo il resto naturalmente verrà posta in est. Il frutto lo vai a raccogliere nei due anni e mezzo successivi. Quindi questa amministrazione ad oggi io le posso dire che con tante problematiche che afflicano il comune tolenovese in ogni caso ha progettato e ha progettato veramente veramente tanto. Per fare un esempio la metallizzazione siamo a due anni e mezzo i frutti li vedremo all'alba del terzo anno. Ma le posso dire che in questi due anni e mezzo abbiamo progettato questo lavoro. come questo tanti altri. Quindi io non credo che il bilancio di questa amministrazione sia negativo nel modo più assoluto. Questa amministrazione ha lavorato tanto nel primo tempo e io sono sicuro che al termine del secondo tempo e ce la giocheremo fino ai supplementari non soltanto fino al novantesimo questa amministrazione raccoglierà i frutti per i quali ha lavorato in precedenza. Poi dobbiamo migliorarci su tante cose ma su questo credo che nessuno lo voglia negare. su questo credo che sia ma noi come qualsiasi altra amministrazione c'è sempre qualcosa in più da fare. sul comune ormai anzi non è che incombe lo è perché il comune ha dichiarato l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario penso che a giorni o settimane dovrebbero arrivare questi funzionari mandati dal Ministero dell'Economia che dovrebbero un po' verificare e vincolare la spesa dell'ente comunale di Tauria Nova. A proposito di questo avete notizie riguardo a questi commissari questi due o tre commissari che dovrebbero arrivare mandati da Roma? Guardi io personalmente non le so dire se vi sono delle date certe so che dovevano già arrivare in precedenza e ancora non sono arrivate naturalmente qui si parla di prefetture e di quant'altro che deve definire appunto il tutto cioè non è una scelta nostra che dobbiamo chiamare telefonicamente o convocarli sono le strutture gerarchiche centrali che devono definire la mia era soltanto se avevate notizie di arrivio o meno su questo non le saprei dare una data è riferito sempre a questo discorso qui di questa amministrazione che sarà un po' vincolata nella spesa questo limiterà questa fase in cui lei ha definito di progettazione di definizione di obiettivi di raggiungere cioè avrete un po' le mani legate in questa nel tracciare l'idea di paese che voi avete beh in un certo qual senso sicuramente sì cioè un qualche problema lo si crea su questo non c'è dubbio che un qualche problematica in più ci sarà però è pur vero che le casse comunali non godevano di buona salute nemmeno prima della dichiarazione del dissesto quindi diciamo tutta la progettualità che vi è stata in questi due anni si è fatto poco con il bilancio comunale perché non è che prima del dissesto il bilancio comunale consentiva chissà quali spese assolutamente no la progettualità che si è creata e su questo il sindaco e anche il vice sindaco per me e la patrizia ci sono spesi veramente tanto insieme agli uffici le posso dire che sono tutte opere che si andranno a fare appunto con dei finanziamenti ottenuti oppure da ottenere quindi sotto questo profilo delle opere non si potevano fare prima del dissesto non si possono nemmeno fare dopo si potranno fare grazie a dei finanziamenti che il comune ha già beneficiato tipo questo della metallizzazione o che andrà a beneficiare faccio un esempio noi abbiamo ottenuto anche per i quarti per il sud 900.000 euro per il teatro tipo su questa spesa cioè su questa progettualità noi già abbiamo un finanziamento quindi il bilancio non ci andrà certamente a creare alcun tipo di problema e a proposito di progetti come sostiene lei come sostiene anche tanti progetti sono stati raggiunti tra cui anche questo della metanizzazione l'ordinaria amministrazione viene portata avanti ma quali sono i progetti futuri in cui ecco un altro nodo dolente lo è stato come lo è in tanti altri comuni e la differenziata la raccolta differenziata nel bilancio precedente è stato previsto un potenziamento della raccolta differenziata dovrà essere bandito un nuovo bando quindi ci dovrà essere forse la vecchia o la nuova gestione della differenziata con una società che sarà confermata oppure eventualmente sarà cambiata sotto questo punto di vista quali sono i passaggi a che cosa si è arrivato? ma sotto questo punto di vista si è cercato di rafforzare appunto questo servizio che oltre alla raccolta differenziata in senso stretto che già Torrianova vi è da anni Torrianova è una delle cittadine non soltanto calabresi ma a livello nazionale all'avanguardia per percentuale di raccolta differenziata ma si è cercato anche di in un certo qual senso integrare questo servizio con altri e ulteriori servizi che vadano in un certo qual senso a lavorare e ad operare anche sul decoro urbano mi riferisco alle tante definite erbacce che un po' vediamo nell'intero territorio comunale nel nuovo bando che è stato appunto Postenestere e la società che andrà a gestire questo servizio dovrà occuparsi in maniera seria anche per quanto riguarda la pulizia delle strade e quant'altro e io credo che sul decoro urbano che oggi con molta sincerità è un qualcosa che affligge il comune di Roma affligge un po' tutte le amministrazioni questo comune come le dicevo prima nel corso del primo tempo ha lavorato affinché nel secondo tempo possa ottenere appunto questi frutti quando partirà questo nuovo bando c'è le scadenze guardi io con le scadenze credo credo che a distanza di qualche mese possa partire prendo con le molle io con i tempi e la società quale sarà qual è stata scelta credo credo è stata confermata la precedenza credo di sì ma non le so non so se si è definito sotto sotto il profilo tecnico procedurale francamente non le so dire se si è concluso oppure meno però le so dire che l'oggetto appunto del nuovo apparto sarà anche questo cioè garantire un potenziamento per la pulizia del decoro urbano e della cittadina e invece sempre per parlare di progettualità l'amministrazione su cosa sta puntando avendo raggiunto questi risultati metanizzazioni io parlo delle cose diciamo più importanti salienti sono stati conquistati quali sono le altre tappe su cui voi puntate ad esempio c'è stata una polemica accesa sull'asfalto di una via via di Berio Condello che non è da 40 anni che aspetta di essere asfaltate soprattutto che vengano definiti con maggiore chiarezza tutti gli allacci che sono legati ad un quartiere i cosiddetti servizi primari l'urbanizzazione quindi fogna le fognature l'acqua e via di genere si sa qualcosa cioè ci sono arrivate delle rassicurazioni che ci sono degli intoppi burocratici che presto su questo cosa possiamo dire ma su questo possiamo dire che questa amministrazione c'è che c'è la via di Berio Condello è un'altra problematica simile alla metanizzazione da 30 anni se ne parla da 30 anni da 30 anni e si continua a parlare senza risolvere alcun che devo dire con molta sincerità che anche l'amministrazione che ci ha preceduto sulla Tiberio Condello ha lavorato non ho problemi a dire che anche l'amministrazione Romeo sulla Tiberio Condello ha lavorato e ha lavorato anche bene però non è riuscito a suo malgrado per le problematiche che sappiamo anche per gli intoppi amministrativi a portare a termine appunto quel progetto questa amministrazione sta continuando appunto quella progettualità già in essere con la speranza di poter quanto prima appunto realizzare e risolvere queste problematiche di cui lei mi diceva sono dei problemi primari fognari e quant'altro e vi sono però delle problematiche amministrative burocratiche che se non vado errato vi sono anche di una questione di esproprio e di quant'altro che devono essere risolti con i tempi ultimati e con i tempi però le posso dire che l'ultima delibera appunto di giunta risale se non vado errato al 3 di aprile che già aveva avviato tracciato le linee io capisco le problematiche dei cittadini dei residenti sulla via Tiberio Condello hanno tutte le ragioni di questo mondo tutte le ragioni di questo mondo però state lavorando affinché risolvano per arrivare diciamo all'obiettivo si sta lavorando io mi auguro però che così come siamo riusciti con la metanizzazione a risolvere un problema atavico e trentennale dimostrando serietà rispetto ad altri mi auguro che anche con la Tiberio Condello si riesca anche beneficiando e qui non ho problemi a dirlo ma non abbiamo problemi a dirlo a nessuno beneficiando anche del lavoro di precedenti amministrazioni a portare a termine appunto questo traguardo anche sulle Tiberio Condello che oggi è una priorità su tutto dopo di che si sta anche lavorando sul sistema fognario sono partite non so è stato pubblicizzato il modernamento di una parte appunto del territorio di Tiberio Mese e su questo aspetto fognario naturalmente sì questo dovrebbe essere un punto di inizio e non certamente un punto di arrivo perché sono problematiche serie posso fare una domanda visto che è una cosa che viene un po' trascurata un po' da tutte le amministrazioni non soltanto quella di Toria Nova ma si tende sempre un po' diciamo a marginalizzare rispetto ad altre priorità giustamente che si hanno in determinati contesti come i comuni riguardo allo sport cioè voi avete intenzione di investire di ammodernare ad esempio lo stadio che esiste a Toria Nova creare delle nuove strutture attraverso lo so che ci sono i vincoli adesso di Sesto che questo impedirà però avete qualche idea su questo oppure no? ma per quanto riguarda il campo sportivo dovrebbe interpellare più l'assessore allo sport per quanto riguarda di battaglia perché non questo come componente della maggioranza no come assessore come componente della maggioranza le posso dire che per quanto riguarda appunto campi sportivi strutture strutture e quant'altro noi stiamo lavorando sulla struttura sul campo sportivo che viene alle porte appunto di San Martino dove c'è il famoso palazzetto dello sport avete avuto modo tutti di vedere di constatare passando appunto sulla l'intenzione è quella di creare uno spazio è quello di creare uno spazio appunto da concedere all'intera cittadinanza per ogni forma di attività sportiva e cercare di creare un tutt'uno anche con le lecenti palazzetti dello sport di cui se ne è tanto parlato anche qui perché Torrianova ha una storia di parole che non finisce mai ma non solo talvera anche anche sul palazzetto dello sport noi abbiamo problemi trentennali forse si stanno risolvendo sotto il profilo burocratico perché qui si parla di burocrazia allo stato puro perché quando non si completa un'opera bisogna poi quando vai a metterci mano bisogna ricominciare sempre da zero e quindi l'idea è quella di completare appunto quest'aria intorno al campo sportivo che c'è lì a San Martino e creare un unicum anche con la adiacente palazzetto dello sport che se Dio vuole potrà essere ultimato creare quest'unicum e dare un'intera area alla cittadinanza dove ci si può incontrare dove si può svolgere ogni forma di attività fisica legata allo sport quindi quindi su questo il comune sta lavorando sta lavorando anche sul fatto che la situazione palazzetto dello sport venga sbloccata sì assolutamente sì assolutamente si ha l'idea di cosa fare quando inizieranno eventualmente i rilavori questo no come tempistica però si sta lavorando io le posso dire sì si sta lavorando si sta lavorando perché l'idea è proprio quello c'è curare un polo un polo infatti si sta lavorando anche sul campo sportivo su quell'area e proprio per creare come le dicevo quest'unicum quindi l'idea c'è di creare un'area dedicata a diciamo le discipline sportive questo e anche questo vede mi faccio dire si critica molto no? si critica molto però ogni qualvolta si fa un qualcosa di buono cioè riscontro poca partecipazione tipo questo è un progetto che noi lo stiamo portando avanti non è che lo stiamo pubblicizzando senza portarlo avanti se passiamo appunto adiacente al campo sportivo è da un mese che vediamo questi lavori quindi è un qualcosa che si sta facendo e si sta lavorando quella famosa progettualità di cui le parlavo prima anche quello non è un qualcosa che nasce oggi per domani ma è un qualcosa che nasce 4, 5, 6, 7 mesi fa e si realizza oggi e andremo a cogliere i frutti in quel famoso secondo tempo di quello che c'è e senta visto che ormai siamo sulla conclusione ci avviamo verso la conclusione se fatta un'idea questa è una domanda che può prescindere dai programmi dai progetti perché l'amministrazione Scionti come dicevamo prima è iniziata con certe turbolenze soprattutto politiche alcuni consiglieri hanno lasciato la maggioranza sono andati dall'altra parte alcuni invece sono ritornati anzi sono tornati sono andati a supportare l'amministrazione si è fatta un'idea così ha visto che sono passato un po' di tempo a bocce ferme di questo grande dissidio e astio che si è creato all'interno della maggioranza perché sono avvenuti questi passaggi si è arrivati a un punto in cui l'amministrazione si pensava cadesse da un momento all'altro poi sono arrivati i sostegni aiuti esterni si è fatta un po' un'idea perché è avvenuto tutto questo a poco tempo dalle elezioni voi ma io credo che le crisi amministrative vi sono sempre state vi saranno sempre qui c'è una base personale io credo che a monte vi sia una incomprensione personale più che altro un'incomprensione personale e non voglio dare responsabilità agli uno io responsabilità agli altri perché io ritengo che quando vi sia un problema così grave forse meriti e demeriti vanno ripartiti in parte uguali io credo che non bisogna bisogna in politica c'è la politica è la base come dire della diplomazia dell'incontro quindi bisogna anche avere il giusto tempo per favorire questi incontri bisogna parlare bisogna discutere e forse una crisi amministrativa così veloce forse anche frutta nel modo di vedere di immaturità politica da una parte e dall'altra però credo che io francamente avrei preferito che questa maggioranza andasse avanti come era prima non certamente per il consigliere Caridi che è subentrato ci mancherebbe altro a noi fa piacere ma al di là appunto della stima che abbiamo per Caridi e quant'altro ideologicamente io ritengo che quando un gruppo si forma questo gruppo deve arrivare alla meta unito quindi io avrei preferito che questa maggioranza avesse continuato questo percorso superando appunto quei dissidi e quelle incomprensioni iniziali avesse proseguito appunto una maggioranza unita così come era uscito dalle un elettorali non è detto che ancora si possa non è detto che qualcuno ci ripensi forse lo vedremo io ringrazio ciò naturalmente non vuol dire che noi non abbiamo stima anche per chi ha lasciato la maggioranza ha lasciato ognuno ha lasciato è stato costretto ha preferito ha optato cioè io ritengo che la politica debba essere una cosa gli aspetti personali debbano essere tutt'altra cosa quindi la stima non deve mai mancare nei confronti di nessuno qualunque sia il colore politico e soprattutto qualunque sia la scelta politica che ogni scelta politica giusto o sbagliata innanzitutto io credo che sia legittima e su questo non c'è dubbio io ringrazio Francesco De Marco che è consigliere di maggioranza nel comune di Taurianova ha una delega molto particolare che riguarda la metanizzazione delle frazioni del comune di Taurianova è riuscito insieme al gioco della maggioranza e dell'amministrazione a raggiungere un obiettivo importante trentennale anzi forse di più di trent'anni che si parla di metanizzazione di queste frazioni io le ringrazio di essere venuto qui a parlare di questo progetto fino a questo momento concretizzato c'è ancora tanto da fare io intanto la ringrazio un'ultima parola sì un'ultima parola doveroso non c'è minuto in mente perché lei ha fatto cena a questa importante delega sulla metanizzazione è vero è un'importante delega è questa che si cerca di portarla a termine però al di là della delega c'è certi progetti e questo della metanizzazione fa parte di questi progetti si ottengono solo con il lavoro di gruppo assolutamente con un gioco di squadra dove hanno avuto un ruolo fondamentale non solo il sindaco e la metanizzazione di tutti il vice sindaco ha avuto un ruolo fondamentale anche l'ufficio tecnico guidato dall'architetto Cardona hanno avuto un ruolo fondamentale di supporto anche all'intero progetto anche i consiglieri espressione appunto del luogo che il consigliere Forstieri e il consigliere Ascone per quanto riguarda la comunità di San Martino di Amato che tanto hanno dato quindi se questo è è un risultato è un successo che al di là della delega singola a me piace condividerlo appunto con tutti ringrazio ancora una volta Francesco De Marco mentre con me ci vediamo la prossima settimana arrivederci